buongiorno a tutte bellissime stamattina video flesso prima di arrivare in negozio perché voglio presentarvi un prodotto meraviglioso chi è innamorata del profumo di cocco allora ascolta attentamente eccolo qui un fondotinta in crema setosissimo con olio di cocco una vera e propria coccola eccolo qua andiamo a vedere descrizione del prodotto unisce la scorrevolezza di una crema alla setosità di una cifra per donare alle pelli normali misse e grasse un incarnato perfettamente uniforme e levigato proprietà prodotto biologico certificato ad azione emoliente con olio di cocco e jojoba allora e già la cremosità è incredibile io per me ho scelto il numero uno perché sono chiarissima ci sono tanti colori negozio guardate che spettacolo è una cremina tutta morbidosa cipriosa e praticamente ci tenevo tanto a far vedere questo prodottino questo prodottino è adatto molto a chi ha la pelle normale ma poi quando lo mettete di una morbidezza unica volevo dirvi adattissimo perché la pelle normale e grassa e messa perché qui nel punto t va proprio a opacizzare la zona e vi mantiene proprio un finish matt per tutto il giorno altra cosa a cui tenevo tantissimo stamattina di dirvi che appunto è sabato nove novembre ci sarà proprio l'evento di lepo e avremo in negozio la bisaggissa di lepo che in base al vostro colore vi consiglierà il fondotinta giusto per voi in base al vostro tipo di pelle vi consiglierà in base ai vostri colori rossetto giusto da mettere non sapete mettere la matita per le sopracciglia lei vi farà vedere come fare non sapete che ombretto mettere quale colore sta bene con il vostro viso beh lei vi aiuterà a scegliere i colori che vi valorizzano di più quindi chiamatemi e prenotiamo l'appuntamento per sabato nove novembre aspetto le vostre chiamate aspetto le vostre chiamate Grazie.